buongiorno a tutti io sono Matteo Pianca vicepresidente dell'Unione Montana al Pago parto col dire che la comunità montana la vecchia comunità montana ha avuto fin dagli anni 80 un ruolo storico in tutto quello che è riconoscimento della razza ovina autottona al quale poi ha portato anche al riconoscimento della specie locale in via di estinzione una cosa molto importante per la tutela di quello che è la nostra razza. È stato promosso oltretutto il primo libro genealogico di razza questa è una cosa molto importante è stato ottenuto da quello che era la vecchia comunità montana. Negli anni attraverso quindi gli allevatori con l'aiuto degli allevatori si era creata la cooperativa degli allevatori appunto prima era un'associazione che poi appunto si è trasformata in cooperativa. Un'altra cosa molto importante realizzata dalla comunità montana attraverso quello che è la Fardim e tutti gli altri allevatori del territorio è il riconoscimento del presidio Slow Food. Questo è molto importante perché da un lato dal punto di vista ci segue un rischio disciplinare di allevamento dall'altro è un'importante promozione e valorizzazione del nostro prodotto ma anche del nostro territorio quindi questo visto anche in un'ottica turistica. Possiamo dire che la partecipazione al progetto della Shipway Chain è stato fatto dall'Unione Montana per agevolare la partecipazione al progetto da parte di tutti gli allevatori anche di quelli che non facevano parte della Fardima in un ruolo diciamo di cappello che ha l'Unione Montana al pago all'interno di tutta la conca in quanto rappresenta tutti e tre i comuni. A livello di questo progetto abbiamo sviluppato anche quell'azione di marketing presso il nostro che avevamo appunto informativo al lago di Santa Croce dando un'enorme visibilità a quello che è il progetto ma al tempo stesso al nostro territorio. Io ringrazio tutti i partner del progetto il GAL Prealpi e Dolomiti e vi ringrazio per tutto quello che è stato realizzato e speriamo che tutto quello che sta accadendo con le varie problematiche che ci sono all'interno del nostro territorio, vediamo quello del lupo, possano comunque essere risolte e permettere ai nostri allevatori che diciamo sempre non sono attività principali ma spesso sono diciamo attività non dico obistiche perché non sarebbe corretto però hanno bisogno di un enorme sostegno da parte dell'amministrazione da parte di tutti i nostri partner del progetto quindi vi ringrazio ancora. Grazie a tutti.